Una delle cose più divertenti della giornata è la maglietta di Black. C'è scritto che le persone più fortunate sposano gli italiani. Io non so dove le trovo quelle magliette lì, lui. Per le domande abbiamo deciso di fare un tavolino qui dal palco con dei fogli da compilare. Ognuno scrive la propria domanda molto breve, noi le raggruppiamo per tema e poi oggi pomeriggio gli poniamo le domande. Poi, dovevate fischiare, non? Poi, se rimane tempo, possiamo anche prendere domande singole. Allora, cominciamo con una cosa che va tradotta. Cominciamo con una cosa che va tradotta, è un messaggio che ci viene da due rappresentanti dei blog greci che dovevano essere qua. Io non ho potuto, mi sono dimenticato di dirvelo, però queste due persone che hanno raccolto i soldi e la rappresentanza di un consistente numero di attivisti greci per essere qui da noi. Capita che siano due pneumologi di un ospedale di Atene che sono stati requisiti dalle autorità perché la situazione delle proteste per le strade è talmente grave che ci sono un numero a record di recovery per problemi polmonari, per la questione dei lacrimogeni, tear gas, per cui mi hanno scritto dicendo purtroppo noi l'abbiamo dovuto annullare il volo, non possiamo venire. Hanno comunque mandato un messaggio, vi dico i loro nomi, Alexandros Romundos e Marina Canavacchi e ci dicono, cari compagni, il nostro pensiero e il cuore sta con voi a Rimini. Buon lavoro a tutti voi, fratelli italiani, lavoratori, operai, studenti. Viva la lotta dei popoli, viva le avanguardie in lotta. Allora, adesso cominciamo, devo fare una precisazione che vorrei che sentissero anche i nostri amici. Non è un punto di orgoglio personale questo, assolutamente, ma è una precisazione proprio importante dal punto di vista del discorso che stiamo facendo. Non lo posso approfondire qui adesso, però non credo, Bill e forse anche Alain, che i tecnocrati europei siano così sciocchi da fare trattati di questa portata che poi possono semplicemente essere ignorati dal pubblico. Le conseguenze di una violazione di una sentenza della Corte europea di giustizia, infatti, di bilancio, sono conseguenze economiche gravissime che coinvolgono tutta una serie di passaggi. Non è così semplice come forse è sembrato. Questo lo dico per informazione a loro. La giornata di oggi si svolge in questo modo. Abbiamo una bella estensione di MMT, importante la parte anche applicativa dell'MMT, quindi oggi facciamo un'ora di MMT, ce la spariamo subito. Poi abbiamo il dibattito sull'uscita dall'euro, lo faranno loro naturalmente e invito i nostri ospiti a ricordarsi che dobbiamo sentirci dire che cosa vuol dire per la famiglia l'uscita dall'euro, il default italiano dall'euro, come la famiglia può gestire il negozio, la piccola azienda, il conto corrente, i risparmi. Cioè esattamente che cosa ci potrebbe succedere e come reagire nel dettaglio. Dopodiché faremo ancora mezz'ora di MMT oggi pomeriggio e poi tutta la questione delle domande. E poi ringraziamenti, gli abbracci e i baci, ma io non ci sarò per quello. Kelton MMT Buongiorno Un'ora, spero che stiate seduti belli comodi E adesso vorrei parlare di alcune tematiche nuove, tornando anche a parlare brevemente di alcuni concetti molto importanti dell'MMT che Paolo mi ha chiesto di approfondire, perché forse sono andato un po' troppo veloce in una delle presentazioni precedenti. Quindi parliamo di MMT e del perché noi pensiamo che sia una modalità così rivoluzionaria di pensare a tante questioni economiche importanti. Un giorno, due giorni fa, non ricordo chiaramente, sono tante ore che non dormo. Il Financial Times ha scritto un articolo sull'MMT, un articolo molto importante per noi dal punto di vista del far passare queste idee, farle arrivare a tutti, farle prendere sul serio da parte dei politici, dagli scrittori finanziari, giornalisti, gli accademici e anche a farle arrivare fino a chi si occupa di normative e di regolamentazioni. Il Financial Times diceva che vedere l'MMT è un po' come vedere... Dov'è Bill che mi deve aiutare a spiegare questa cosa? È come vedere un audio stereotipo. Appresente quelle immagini che sembrano un po' strane, che non si delinea bene l'immagine, però se si guardano bene si chiarisce l'immagine. Ecco, è così che il Financial Times ha descritto l'MMT, un'immagine nebulosa che guardandola poi si chiarisce a poco a poco. Quindi bisogna applicarci molto a queste idee, perché sono così diverse rispetto a tutto quanto quello che abbiamo imparato e che pensavamo di capire bene sul denaro e sul deficit governativo, il debito, eccetera. E quindi vorrei ritornare a parlarvi di alcuni concetti molto importanti. Noi pensiamo meglio, la maggioranza delle persone pensa che il governo riscuota delle tasse da noi e raccolga anche dei fondi vendendo titoli in maniera da poter finanziarsi la spesa. Il governo ha bisogno dei nostri soldi per poter spendere, ma l'MMT respinge questo. L'MMT dice che uno Stato che emette una moneta sovrana non ha bisogno di farsi dare dei soldi dagli utenti operanti in economia. La valuta sovrana è presente, quindi lo Stato può spendere i propri io ti devo, può spendere i propri soldi, crea la propria valuta. E questo non è tutto. Ma le tasse che vengono riscosse dai cittadini non possono finanziare assolutamente nulla. E i bondi, i titoli che vengono venduti per avere degli entroiti per lo Stato in uno Stato sovrano, non servono per pagare la spesa dello Stato. Noi dobbiamo considerare due aspetti. Un canale verticale, ed è lì che il denaro dello Stato diventa importante. L'MMT sottolinea che lo Stato spende emettendo quello che noi definiamo denaro ad alto potere. È una parola abbastanza strana questa, che serve per descrivere la valuta dello Stato, le banconote, le monete e anche le responsabilità della banca centrale, cioè le riserve della banca. Quando noi facciamo un assegno allo Stato per pagare le tasse, questo assegno passa tutto un processo in cui il nostro conto bancario viene indebitato e poi tutto il procedimento va avanti. E quindi il denaro viene accreditato allo Stato e quindi viene conteggiato. Ma questo denaro ad alto potere, le responsabilità dello Stato, vengono ad essere distrutte da questo processo, cioè sono eliminate dai bilanci e questo denaro praticamente sparisce, va giù per lo scarico e non può essere utilizzato per finanziare niente. Oltre al canale verticale, il denaro dello Stato, abbiamo anche un aspetto orizzontale in qualunque sistema monetario moderno. La maggior parte delle transazioni nel settore privato non implicano il governo. Quindi si tratta di denaro emesso dal credito privato. Questo lo possiamo pensare come leva della moneta di Stato. Il denaro ad alta potenza quindi rappresenta la responsabilità del governo. Si trova esattamente in cima alla piramide e il settore privato utilizza il denaro dello Stato per far leva rispetto alla creazione del proprio denaro, della propria moneta, della propria io ti devo, il proprio debito. In tutti i sistemi moderni la banca centrale ha il tasso di interesse che viene stabilito e fornisce denaro alle riserve su richiesta orizzontalmente al tasso di interesse prestabilito. Inoltre assorbe delle riserve in eccesso utilizzando le operazioni sul mercato aperto, acquisendo e vendendo titoli governativi per riuscire a raggiungere gli obiettivi dei tassi di interesse prestabiliti. Pertanto i titoli vanno considerati non tanto come strumento di finanziamento ma come strumento di politica monetaria. I titoli aiutano il governo a coordinare la riserva che viene creata dalla spesa governativa con il drenaggio della riserva che viene a avvenire con la riscossione delle tasse. Negli Stati Uniti il Tesoro e la Federal Reserve hanno una modalità molto complessa di coordinare le operazioni fiscali del governo. Molti di noi nella scuola MMT abbiamo scritto a questo riguardo moltissimo. Si tratta di un procedimento molto complesso che coinvolge tutta una serie di dettagli istituzionali e non è un qualche cosa che possiamo trattare estesamente in questa sede oggi. Se vi interessa sapere come funziona tutto questo in maniera dettagliata potete andare a trovare qualcosa che è stato pubblicato sull'Economic Perspectives blog, un articolo da me pubblicato per esempio nel 2000 sul Journal of Economic Issues che si intitola Due Taxes and Bond Finance Government Spending e il libro di Randy Reis che si intitola Capire il denaro moderno Understanding Modern Money. Comunque io voglio sorvolare sui dettagli operativi a questo riguardo e parlarvi brevemente di una cosa cioè quando il governo spende e aggiunge nuovo denaro al circuito, quando riscuote tasse, toglie del denaro dal sistema bancario se il governo spende più di quanto preleva allora noi diciamo che il governo incorre in un deficit il deficit lascia riserve nel sistema bancario e questo avvia una risposta da parte della banca centrale le riserve supplementari sospingono verso il basso i tassi di interesse e questo non è uguale a quello che noi abbiamo imparato in economia l'economia tradizionale ci dice che un deficit governativo fa salire i tassi di interesse perché il governo deve competere per un pool di risparmi limitato e se si vuole aumentare il deficit allora bisogna pagare un prezzo superiore per riuscire ad avere parte di questi risparmi l'MT respinge questo approccio, noi capiamo che lo Stato crea denaro, che il denaro non è scarso e che il governo non prende a prestito i risparmi della gente per finanziare il proprio deficit ma spende per primo creando le riserve che poi utilizza vendendo i titoli quindi il settore privato perde le riserve e guadagna i titoli governativi ed è così che vengono utilizzati i titoli per mantenere i tassi di interesse in uno Stato a moneta sovrana io spero che questo grafico vi possa servire, non so quanto riusciate a vedere da dietro comunque la componente venticale vedete che vi indica che la spesa del tesoro aggiunge denaro ad alto potere HPM che si accumula nelle banche fino a quando noi paghiamo le tasse e quindi parte di questo denaro scompare, va giù per lo scarico oppure le banche utilizzano il denaro dello Stato per creare del proprio denaro per prestarlo alle aziende e ai cittadini privati quindi facendo leva sul denaro dello Stato ed è questo che ci piace definire come canale verticale e orizzontale della nostra spiegazione sull'MMT ovviamente abbiamo la teoria del credito la teoria endogena del denaro e anche il denaro dello Stato ovviamente tutto questo ci riporta alla teoria di Lerner della finanza funzionale nella parte che si intitola Functional Finance del Federal Debt Lerner ci spiega che le tasse non finanziano assolutamente niente il governo non può spendere i soldi che riscuote vengono eliminati e si capisce che le vendite dei titoli servono per condurre la politica monetaria l'economia convenzionale invece ci dice che servono per la politica fiscale servono a finanziare mentre invece l'MMT li utilizza in maniera molto diversa i bond sono molto importanti perché permettono alla banca centrale di vendere e comprare titoli aggiungendo e riducendo risorse del sistema bancario per riuscire a raggiungere i propri obiettivi di tassi di interesse per cui dovremmo respingere la visione ortodossa perché è sbagliata secondo il pensiero convenzionale sulla finanza governativa le tasse e i titoli sono sbagliati secondo la teoria convenzionale sappiamo che se il governo dovresse finanziare la spesa creando nuova moneta questo sarebbe inflazionistico iperinflazionistico in genere si dice ma in effetti come dimostrato dall'MMT tutta la spesa governativa è per definizione finanziata dalla creazione di nuova moneta a volte la gente pensa che noi proponiamo al governo di fare qualcosa di diverso che l'MMT dice sì i governi sovrani dovrebbero finanziare la propria spesa creando nuova moneta noi stiamo semplicemente descrivendo come funzionano le cose adesso per cui questa non è una proposta politica non deve portare a un riscontro inflazionistico perché le cose vanno già così e non c'è un impatto inflazionistico secondo il pensiero ortodosso devo dire ancora che i governi vendono titoli e debbono competere per avere un quantitativo molto limitato di risorse finanziarie disponibili sul mercato e se il governo ne vuole una parte di questo pool le aziende ne vogliono un po' le famiglie ne vogliono un po' alla fine ci dobbiamo scontrare gli uni con gli altri e il prezzo di questi risparmi aumenta nei libri di testo troviamo che se il prezzo aumenta aumenta il tasso di interesse e quindi tutto questo avvia tutta una serie di altre forme di spesa arriva il governo si prende queste riserve e dice io voglio questa parte questo fa aumentare i tassi di interesse per tutti quegli altri che vogliono prendere a prestito denaro e quindi si avvia una modalità più efficiente di spesa del settore privato per riuscire a compensare le modalità inefficienti di spesa del governo ovviamente però questo meccanismo è sbagliato i titoli vengono venduti allo scopo di riprendere il denaro del governo che è stato prodotto dalla gestione del deficit stesso quindi è il deficit che crea il denaro che poi viene messo a disposizione per l'acquisto dei titoli quindi le riserve non sono illimitate aumentano con la spesa del deficit quindi tutto quello che ci dice la teoria convenzionale quindi quello che gli studenti imparano nelle lezioni di economia quindi come quello che abbiamo sentito ieri anche in Italia ecco gli studenti quindi vengono esposti ad una versione ortodossa neoclassica dell'economia che non si applica ai governi che emettono una valuta sovrana l'MMT sottolinea il rapporto che esiste fra il potere dello Stato sulla moneta e il suo potere di fare delle cose delle cose reali per condurre la politica senza vincoli liberamente si sottolinea che lo Stato proprio grazie al suo potere sul denaro detiene una forma di potere di controllare le risorse all'interno dell'economia lo Stato impone tasse e questo permette allo Stato di convincere le persone a lavorare a produrre a fornire delle cose allo Stato per poter avere i soldi necessari per pagare le tasse in questo modo lo Stato detiene un controllo su come utilizzare le risorse della società quindi non è una cosa che risulti immediatamente ovvia a prima vista ma è fondamentale ai fini dell'MMT e quindi in un evento di questo tipo quel che dobbiamo fare soprattutto è cercare di sollevare questo velo che nasconde le potenzialità dello Stato di utilizzare il sistema monetario nell'interesse pubblico Abbiamo parlato brevemente ieri di come gli economisti valutano il problema della disoccupazione fondamentalmente abbiamo tre opzioni quando si parla di inevitabilità della disoccupazione in qualunque economia di mercato la disoccupazione pura questo significa che il disoccupato sta lì senza far niente praticamente come riserva tampone di persone, esseri umani che non percepisce reddito e che non ha niente di utile da fare quindi praticamente gente che non ha compiti da svolgere non percepisce alcun reddito Nella maggioranza dei sistemi esiste un qualche tipo di sostegno alla disoccupazione una rete di sicurezza diciamo di qualche tipo può essere un sistema di supporto alla disoccupazione cassa integrazione un qualche pagamento che viene concesso a chi ha perso il posto di lavoro Questo tipo di abortizzatore può vigere per mesi o anche anni quindi in questo periodo la persona percepisce un certo reddito pur non avendo alcun lavoro da svolgere L'altra possibilità quella che è preferita diciamo dall'MMT riguarda quella di una riserva di soggetti non disoccupati ma occupati e ne ho parlato ieri questa la chiamiamo programma di datore di lavoro di ultima istanza una garanzia del posto di lavoro in un programma di questo genere quando una persona perde il posto di lavoro nel settore privato o anche nel settore pubblico la persona ha un altro lavoro da svolgere per così dire il governo non permette che la persona se ne rimanga lì inerte pagata senza fare nulla e gli assegna un qualche compito utile un qualche compito che risulta utile alla società di cui ha bisogno percepisce un reddito e ha qualcosa da fare ieri abbiamo parlato del fatto che l'Argentina ha applicato un programma di questo tipo che si chiamava programma EFES che offriva un lavoro ai capi famiglia disoccupati gli dava quindi i compiti utili da svolgere gli pagava quindi un salario di base questo programma ha avuto molto successo L'ELR quindi dà alla gente un lavoro di transizione per così dire con l'operatività normale ciclica dell'economia quindi licenziamenti riassunzioni da parte delle aziende ecco in tutta questa ciclicità le persone hanno qualcosa da fare non se ne stanno lì seduti nello stuolo dei disoccupati ma fanno parte di una comunità di occupati questo programma di garanzia dell'occupazione serve a funzionare come stabilizzatore automatico nessun burocrata del governo deve decidere se spendere quando aumenta la disoccupazione e quindi nessun burocrat deve prendere nessuna decisione cioè questo meccanismo si avvia automaticamente appena si perde il posto di lavoro e si desidera partecipare a un programma di garanzia dell'occupazione ci si presenta e ci viene assegnato un compito un lavoro e si riceve un reddito ovviamente ci può essere anche un periodo di formazione previsto all'interno del programma quando il settore privato poi comincia a riprendersi e quindi riprendono le assunzioni i lavoratori passano da questo programma per rientrare in altre tipologie di occupazione in questo modo la garanzia dell'occupazione rappresenta praticamente un programma tampone un polmone una riserva di manodopera in attesa che ci sia la ripresa economica pertanto la società può avere delle persone che svolgono dei compiti utili e le persone possono fare qualcosa di utile che possa dare senso alla vita quindi l'appartenenza alla società si rafforza c'è un reddito invece di avere una vita completamente inerte senza compiti da svolgere senza reddito noi negli Stati Uniti non abbiamo mai avuto un vero programma di questo tipo di garanzia dell'occupazione ma abbiamo però un programma molto interessante che serve ad assolvere molti di questi obiettivi ieri uno di voi ha fatto una domanda sul New Deal di Roosevelt quando Franklin Delano Roosevelt era presidente e l'economia statunitense si trovava nel mezzo della grande depressione Roosevelt istituì un alphabet soup questo significa un'ampia gamma di programmi per l'occupazione la Works Progress Administration mio nonno per esempio aveva lavorato all'interno della WPA poi la Civilian Conservation Corps CCC alcuni di voi hanno fatto delle domande relative anche ai problemi ambientali e se l'MMT abbia un qualche cosa da dire anche relativamente alla politica ambientale o energetica il CCC si occupava molto da vicino di tematiche ambientali l'NYA era il National Youth Administration e si trattava di un programma concepito specificatamente per occuparsi del problema della disoccupazione giovanile che sappiamo essere molto serio in molte parti d'Europa oggi i programmi di Roosevelt assumevano i disoccupati gli davano un reddito e gli davano qualcosa di utile da fare costruirono ospedali scuole parchi ponti autostrade aeroporti stadi e molte molte altre cose ricostruirono l'America i programmi davano lavoro a milioni di americani in attività produttive socialmente utili costruttori architetti ingegneri e anche poeti pittori attori tutti costoro trovavano una collocazione nell'ambito di questi programmi comunque questa è una modalità su larga scala che richiede che esista la capacità di gestire dei grandi defici pubblici quindi è necessario che ci sia una moneta sovrana con una moneta sovrana e con l'impegno nei confronti della finanza funzionare è possibile strutturare una democrazia che funzioni veramente per la gente capire questo è importante se la gente lo capisce questo serve a togliere ai politici qualunque scusa di inerzia i politici non posso dire non abbiamo i soldi per farlo tutto quello che è fisicamente possibile tutto quello che è fisicamente possibile è finanziariamente possibile l'unica limitazione che noi dobbiamo considerare nell'ambito dell'MMT riguarda i vincoli reali che esistono abbiamo già superato nella nostra testa tante cose per il sistema monetario il nostro modo di interpretarlo abbiamo già superato i vincoli finanziari non esistono più e lo Stato che mette una valuta è grado di mobilitare le risorse per raggiungere obiettivi di interesse pubblico qualunque democrazia la gente dovrebbe decidere che cosa questo significhi fino a quando c'è disponibilità di risorse reali e quando io dico risorse reali intendo la terra il cemento l'acciaio le cose tangibili che sono veramente necessarie per costruire le strade i ponti gli aeroporti le scuole tutto quello che si decide di costruire di cui si decide di avere bisogno come persone fino a quando queste cose sono disponibili il governo con i propri poteri di riscossione fiscale eccetera è in grado di mobilitare queste risorse a beneficio di tutti determinate attività sono semplicemente troppo importanti per essere lasciate in valia dei mercati e delle motivazioni unicamente miranti agli utili al profitto bisogna prestare attenzione all'ambiente alla sicurezza energetica alla stenza sanitaria alla sicurezza del reddito per gli anziani per chi non ha un reddito eccetera 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 tutto questo è troppo importante per essere lasciato in valia delle forze di mercato l'MMT l'MMT ci fa capire che è possibile un mondo nuovo e migliore e adesso mi interrompo un attimo perché voglio parlare brevemente della T dell'MMT perché mi è arrivato un tweet ieri sera di una persona che diceva che era d'accordo con me sul fatto che non gli piaceva la T vi ricorderete che T significa theory teoria e quindi io non ho dormito molto stanotte perché ci continuavo a pensare e ho pensato che invece la T ci vuole perché noi siamo economisti e abbiamo una nostra interpretazione del modo in cui funziona la macroeconomia e quindi è necessariamente un'interpretazione teorica questa la nostra visione del mondo teorica è molto diversa dalla visione teorica del mondo neoliberista nella loro interpretazione del mondo i tagli salariali i licenziamenti le restrizioni servono a contribuire una buona politica economica e credono questo proprio in vista dei modelli economici che loro applicano e utilizzano e questi modelli si basano sulla teoria economica noi pensiamo che questo sia sbagliato noi abbiamo dei modelli diversi e i nostri modelli sono anch'essi basati sulla teoria ma la nostra interpretazione teorica si basa su principi della teoria keynesiana noi comprendiamo anche dei principi importanti di Marx e di altri ma esiste una componente teorica molto forte nel nostro pensiero quando le banche centrali cominciano a comprare titoli in grande quantità negli Stati Uniti questo è stato definito quantitative easing molti economisti cominciano a urlare iperinflazione ecco questo distruggerà il mondo noi abbiamo detto no ma abbiamo detto no proprio perché abbiamo un'interpretazione teorica diversa dei canali attraverso i quali opera la politica monetaria e pertanto certe cose tutte le cose che loro hanno interpretato in maniera erronea noi le abbiamo interpretate in maniera corretta proprio in vista della nostra diversa interpretazione teorica l'MT quindi deve avere una T bella grande e adesso passiamo a parlare di un qualche cosa che invece di T non ne ha abbiamo levato la T quindi e passiamo ad un concetto molto importante dell'MMT l'utilizzo dei bilanci settoriali per analizzare quello che avviene alla posizione finanziaria dei diversi settori macroeconomici cominciamo innanzitutto con una dichiarazione dobbiamo riconoscere che i deficit sono una cosa normale le economie capitaliste molte economie capitaliste hanno dei deficit permanenti le eccedenze sono rare e fuggevoli effimere in molti paesi grandi e ricchi in tutto il mondo per alcuni paesi il deficit si manifesta in maniera brutta mi spiego il deficit compare perché l'economia è nei guai la recessione per esempio causa un aumento della disoccupazione una caduta dei redditi e di conseguenza cala anche il gettito fiscale esplode il deficit e questo lo avete visto tutti ma il deficit può essere gestito in una maniera ancora peggiore e questo avviene quando si applica un'austerità fiscale quindi una recessione progettata e poi ci sono i buoni deficit i deficit che vengono compresi dall'MMT che non vengono considerati preoccupanti anzi che l'MMT avalla e sostiene il governo può gestire un deficit permettendo al proprio bilancio di espandersi e di contrarsi senza limiti arbitrari dal punto di vista sia dimensionale che temporale cioè la tempistica o la durata della sostenibilità di questo deficit con il tipo di politica che vi ho descritto come per esempio la garanzia dell'occupazione e i diversi tipi di programmi questo ovviamente può richiedere una situazione in cui i governi debbano gestire dei deficit nella maggioranza del tempo quindi la questione è questa questa è buona economia un deficit ecco lo vediamo il falco il falco del deficit il falco lo conoscete tutti è un uccello molto grosso un falco del deficit così lo chiamiamo negli Stati Uniti è una persona che si oppone al deficit in linea di principio un falco del deficit molto spesso è a favore di quello che definisce moneta sana uno standard d'auro una unione monetaria un falco del deficit stabilisce delle regole che obbligano al pareggio di bilancio in qualunque momento un falco del deficit pensa che non esista una cosa che possa essere definita come deficit buono e un falco del deficit è a favore di un'immediata austerità per ridurre in maniera drastica i deficit di bilancio parliamo invece poi della colomba del deficit che la colomba quindi è un animale che sembra molto più amichevole e mansueto una colomba del deficit è favorevole a una spesa più limitata dal punto di vista del deficit in periodi economici difficili ma vuole che ci sia un pareggio di bilancio in tutto il ciclo economico quindi deficit ed eccedenze ciclicamente una colomba è a favore dell'istituzione di regole che limitino la spesa governativa pensiamo per esempio al patto di crescita e stabilità che permette che ci siano dei piccoli deficit ma si attende anche che si presentino delle eccedenze nel corso del ciclo una colomba del deficit riconosce che il deficit è importante quando c'è una flessione economica e quindi c'è la disponibilità a gestire il deficit in periodi difficili però al tempo stesso si vuole l'austerità dopo il recupero economico di che cosa si preoccupano sia i falchi che le colombe si preoccupano delle conseguenze negative della gestione del deficit sono convinti che a un certo punto i mercati si rifiuteranno di prestare denaro a tassi ragionevoli i tassi di interesse andranno alle stelle e il deficit diventerà insostenibile e pensano che gestire dei grandi deficit porti in ultima analisi a una grave inflazione Paul Krugman è una colomba del deficit l'MMT però ha una sua versione dei fatti che è migliore se il governo si avvantaggia della propria posizione poiché può emettere la moneta il governo potrebbe finanziare il proprio deficit senza dover ricorrere a prestiti quindi senza vendite di titoli questo significa niente disciplina da parte dei mercati dei titoli quindi niente vigilantes dei mercati dei bond nessun problema di solvenza i tassi di interesse saranno inferiori non superiori come direbbe invece Krugman ma che cosa dire dell'inflazione l'MMT non consiglia di gestire l'economia a livelli troppo elevati ma consiglia di utilizzare il deficit per portare l'economia alla piena occupazione ma non oltre non spingerla oltre e questa è una critica che comunemente ci viene rivolta da molti da molti che ci criticano e dicono voi volete dei grandi deficit al di là della piena occupazione quindi spingiamo 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 troppo e quindi dobbiamo essere pazzi hanno praticamente fornito una interpretazione sbagliata del nostro pensiero in maniera da poterci ridicolizzare la finanza funzionale richiede al governo di mantenere la piena occupazione e la stabilità dei prezzi noi siamo preoccupati dell'inflazione come gli altri ma noi non la consideriamo come un grave problema quando l'economia funziona al di sotto del livello della piena occupazione con quindi tante risorse inutilizzate e disponibili il governo ha tanto spazio per poter spingere l'economia prima che l'inflazione diventi una vera preoccupazione a questo punto l'MMT sottolinea questo non si può prendere in considerazione e giudicare fare dichiarazioni sull'entità del deficit governativo del bilancio pubblico isolatamente non si può concentrarsi su un unico settore dell'economia quando ce ne sono tanti di settori in economia multisettoriale quindi dobbiamo capire come il bilancio pubblico si può raccordare con il resto dell'economia e per far questo abbiamo bisogno di una buona comprensione di base dei bilanci settoriali che cosa ci mostrano i bilanci settoriali in qualunque periodo considerato il bilancio settoriale ci mostra se un settore particolare dell'economia spende di più di quanto guadagna e quindi c'è un deficit spende meno di quanto guadagna e quindi c'è un'eccedenza o spende esattamente quanto guadagna e quindi siamo al pareggio di bilancio dobbiamo considerare tre settori due interni quindi l'interno e uno esterno i settori interni sono rappresentati dal settore interno privato quindi la combinazione delle famiglie e delle aziende di un paese accorpati a fini analitici e poi il settore interno pubblico cioè il locale lo statale il provinciale il livello nazionale al di fuori quindi della sfera interna abbiamo il settore esterno cioè il resto del mondo possiamo chiamarlo il settore estero quindi governi esteri le famiglie estere le aziende estere abbiamo quindi tre settori e due regole le due regole sono che non possono essere in eccedenza tutti e tre settori al tempo stesso e non possono essere in deficit tutti e tre contemporaneamente queste non sono le mie regole queste sono le regole della contabilità l'eccedenza di una persona si riflette nel deficit di un'altra l'unico modo per cui un settore possa avere un bilancio positivo è di se almeno un altro settore ha un bilancio negativo praticamente si può pensare a tre monete testa è positivo e croce è negativo tutte e tre le monete le avete in mano fatele saltare per aria e se quando ricadono sono tutte e tre testa allora riprovateci non funzionerà e poi alla fine magari viene tutte e tre croce riprovateci ancora una volta si può avere due teste e una croce due eccedenze e un deficit oppure due croce e una testa due deficit e un'eccedenza le regole di bilancio quindi valgono in questo modo istintivamente probabilmente noi tenderemo a pensare che ci sia un qualcosa di intrinsecamente migliore dal trovarsi in una situazione di eccedenza di surplus ma ricordate che non possiamo essere tutti in surplus in eccedenza contemporaneamente perché questo va contro alle leggi della contabilità quindi almeno un settore deve essere in deficit qui vediamo che il settore pubblico governativo a sinistra e il settore non governativo a destra hanno questa situazione il settore non governativo comprende i nuclei familiari le aziende e il resto del mondo quindi tutto quanto non rientra nel governo in presenza di un'eccedenza nel settore pubblico governativo allora per definizione c'è un deficit nel settore non governativo se il governo è in deficit allora per definizione il settore non governativo sarà in eccedenza ci sono due possibilità due teste una croce due croce e una testa quale opzione è migliore il settore privato deve essere in eccedenza quasi sempre come regola di massima il settore privato non può sopravvivere in condizioni di deficit le famiglie e le aziende come utenti della moneta non possono continuare a spendere indefinitamente al di sopra dei propri mezzi e del proprio reddito perché arriva un punto a cui che anche i maghi della finanza di Wall Street non avranno più persone degne di credito che siano disposte ancora a spendere e a spendere a credito e quando questo si verifica i prezzi dei beni vanno alle stelle le vendite calano aumenta la disoccupazione quindi domande di sussidi di disoccupazione e l'economia comincia a contrarsi e quindi il bilancio dello Stato comincia a spostarsi verso la condizione di deficit quindi le modalità più negative il settore privato quindi non può creare ricchezza netta per se stesso le aziende le banche le famiglie nel loro complesso possono prendere a prestito e prestare denaro ma ogni positivo deve essere controbilanciato da una passività nell'altro settore quindi ogni attivo ha un passivo gli attivi e i passivi quindi si annullano l'uno con l'altro non possiamo creare un patrimonio netto internamente al nostro interno come settore privato una ricchezza finanziaria netta deve venire dall'esterno deve venire dall'esterno del settore privato da dove derivano le eccedenze da dove vengono ricordate che eccedenza significa questo che il proprio reddito è superiore alla propria spesa il deficit significa che si spende di più di quanto si guadagna tutti questi settori il settore privato a sinistra e il settore pubblico e il settore estero a destra ecco ciascuno di questi può essere in deficit o in eccedenza ma non possono essere tutti in deficit e in eccedenza contemporaneamente se il settore pubblico è in deficit questo tende ad avere una ripercussione in termini di eccedenza per il settore privato se il resto del mondo è in deficit contro l'Italia e questo significa che l'Italia è in eccedenza o un deficit governativo o un'eccedenza commerciale contribuirà a far aumentare il patrimonio o la ricchezza netta del settore privato ecco a questo punto qualcuno si dirà dove stanno le equazioni eccole qua ecco queste sono le equazioni e ve le faccio vedere in maniera da legittimare tutto quello che vi ho detto ecco cercate di individuare i punti che vi interessano ma comunque fidatevi di me da una parte dell'equazione vediamo la fonte del reddito dall'altra parte dell'equazione vediamo come utilizziamo il nostro reddito quindi fonti e utilizzi debbono essere uguali in maniera da bilanciare queste equazioni si possono spostare dei termini dall'altra parte e scrivere l'equazione in questo modo qual è l'equazione più importante per noi questa è la differenza fra quello che il settore privato risparmia e spende questa è la differenza fra per il governo il settore pubblico quello che spende e quello che riscuote e questa è la differenza fra quello che il resto del mondo compra da voi quindi le esportazioni e quello che voi comprate da loro le importazioni ho detto che se il settore privato deve essere in eccedenza c'è bisogno che almeno un altro settore si trovi in deficit e questi sono i dati relativi all'Italia in rosso cioè la curva in basso mostra il pareggio di bilancio pubblico vediamo che per ciascun anno dal 96 in poi il governo italiano è stato in deficit ma vediamo anche che maggiore il deficit del settore pubblico maggiore è l'eccedenza del settore privato in effetti praticamente le due curve sembra che procedono in maniera opposta l'una rispetto all'altra si potrebbe dire addirittura che man mano che il governo cala il settore privato aumenta ecco questo è un modo diverso di interpretare il problema del deficit pubblico ecco e qui vediamo l'Irlanda questa è verità non l'ho inventata sembra simile vedete con l'esplosione del deficit pubblico irlandese è esplosa è esploso anche l'accumulo dei beni finanziari quindi i risparmi del settore privato la Grecia simile l'andamento la Spagna con l'aumento del deficit questa è la Spagna un deficit più del 10% di deficit sul PIL e questo è il settore privato spagnolo in eccedenza in surplus la Germania la Germania ha a volte delle eccedenze ma cosa succede al settore privato vedete col passaggio del bilancio pubblico inattivo lo vedete qui in questo periodo in cui abbiamo un surplus di bilancio pubblico in Germania e il settore privato di conseguenza piomba nel deficit e quindi in questa posizione il settore privato in genere non ci passa molto tempo un'esperienza inusitata perché il settore privato non è in grado di sopravvivere in una condizione di deficit qui vediamo il Regno Unito il Giappone e gli Stati Uniti i grandi deficit che sono stati registrati fin dalla flessione poi successivamente dalla crisi finanziaria dei grandi deficit che hanno terrorizzato i falchi al tempo stesso hanno aiutato il settore privato a ricostruire a ricostituire i propri bilanci andando quindi ad avere un impatto positivo sul risparmio e questo ovviamente rappresenta un buon deficit il motivo per cui le due curve non erano esattamente speculari negli ultimi grafici che vi ho fatto vedere è dovuto alla questione che non ho incluso il settore estero volevo farvi concentrare soprattutto sul rapporto fra settore pubblico e suo deficit e settore privato e sua eccedenza qui vediamo il quadro completo per gli Stati Uniti ogni settore in rosso vi mostra la posizione del bilancio statunitense tutto quanto quindi ricade al di sotto dello zero indica un deficit del settore pubblico noterete qui che il governo statunitense è quasi sempre in deficit invece in blu vediamo indicato il bilancio del settore privato e noterete quindi che il settore privato è quasi sempre in eccedenza in verde vediamo indicato invece il bilancio estero vedete gli Stati Uniti avevano un'eccedenza dal punto di vista della bilancia commerciale e quindi abbiamo un po' di verde qui e adesso abbiamo un deficit della bilancia commerciale a volte anche sostanziale e questo porta ad una riduzione dell'eccedenza del settore privato concentriamoci adesso su un periodo specifico di tempo il periodo della fine degli anni 90 e dell'inizio degli anni del 2000 un periodo in cui per la prima volta in decenni il governo statunitense si trovava in una situazione di eccedenza di bilancio vediamo questa situazione di eccedenza in cui vedete il rosso passa in territorio positivo questi anni qui vedete rappresentano l'eccedenza di bilancio pubblico molti tenderebbero a pensare immediatamente che si tratti di una cosa buona perché è dimostrazione di un'ottima responsabilità fiscale quindi hanno pareggiato il bilancio ma sono riusciti addirittura a sospingerlo in attivo al tempo stesso il deficit dei conti correnti era enorme e il resto del mondo si trovava in situazione di bilancio ampiamente positivo contro gli Stati Uniti e questo riduceva aveva un impatto negativo sul risparmio del settore privato calavano le eccedenze e quindi il settore privato veniva sospinto in situazione di deficit su scala senza precedenti e il settore privato quindi è passato da una situazione al di sopra dello zero ad essere sospinto al di sotto dello zero il settore privato è rimasto in questa situazione per diversi anni spendendo di più di quanto non guadagnasse dovendo contrarre dei debiti per sopravvivere tutto alimentato da una enorme bolla economica che ha poi portato alla recessione e che ha quindi portato il settore privato ad avere un bilancio in deficit l'ultima parte che volevo illustrarvi stamane riguarda il modello del bilancio finanziario nel mondo M&MT siamo particolarmente interessati a questo modello che è stato approntato da un nostro amico amico che è un economista di grandissima levatura e si chiama Rob Parento e scrive anche lui sul New Economic Perspectives blog sul nostro blog e ha sviluppato questo modello è una struttura di riferimento che ci permette di confrontare i tre settori dal punto di vista del bilancio in forma grafica agli economisti piacciono molto i grafici è così che si riesce ad acquistare credibilità nel nostro mondo bisogna utilizzare modelli e grafici l'asse verticale misura la posizione di bilancio del settore pubblico se lo Stato è in eccedenza si trova nella metà superiore del grafico invece se è in deficit si trova nella metà inferiore del grafico l'asse orizzontale misura i conti correnti il bilancio estero se ci si trova alla destra del grafico i conti correnti sono in attivo se invece si è sulla parte sinistra i conti correnti sono in negativo la linea tratteggiata mostra il bilancio finanziario del settore privato a zero quindi ogni puntino della linea tratteggiata indica un punto in cui il settore privato non ha né un attivo né un passivo cioè spente quanto guadagna al di sopra della linea tratteggiata il settore privato è in deficit ricordate quello che ho detto il settore privato non può sopravvivere in questo territorio al di sotto della linea tratteggiata il settore privato invece è in surplus in attivo per un paese che emetta una propria moneta sovrana la moneta legale senza tasso di cambio fisso la moneta fiat il mondo rappresenta il tuo nido praticamente ci si può trovare in qualunque punto del grafico non ci sono regole non ci sono motivazioni per posizionarsi in nessun punto in maniera particolare ma dovete ricordare adesso la linea non è più tratteggiata però sapete a quale mi sto riferendo la linea diagonale quella che prima era tratteggiata quindi il territorio al di sopra di questa linea trasversale è insostenibile per il settore privato quindi l'unico spazio sostenibile è quello al di sotto di questa linea cioè quello che vediamo colorato vediamo quest'altra immagine che è relativa ai paesi che usano l'euro dove devono operare questi paesi se si seguono le regole il deficit non deve superare il 3% del PIL perciò mettiamo diciamo un confine un po' più basso al 3% almeno 3% quindi in territorio negativo negativo e questo è lo spazio disponibile in teoria vediamo però i paesi dell'eurozona che hanno un deficit dei conti correnti ricordate che il deficit dei conti correnti si situa in territorio a sinistra dell'asse verticale ma non si può andare al di sotto del 3% quindi i paesi che hanno un deficit dei conti correnti hanno diciamo occupato questo rettangolo i paesi invece che hanno un'eccedenza dei conti correnti occupano uno spazio diverso un paese con un'eccedenza dei conti correnti può posizionare il proprio settore con un minor deficit del settore privato e qui vediamo la situazione per un paese che utilizzi l'euro e che anche abbia un deficit dei conti correnti vedete occupa uno spazio piccolissimo e questo è lo spazio che a voi lo spazio di manovra che viene concesso a voi praticamente tutto quello che c'è al di sopra della linea tratteggiata significa deficit del settore privato e quindi non è uno spazio sostenibile per voi per nessuno lo è quindi bisogna collocarsi al di sotto della linea tratteggiata però bisogna stare anche al di sopra della linea rossa ma dato che avete un deficit commerciale allora state ancora a sinistra della linea verticale e quindi il vostro spazio di manovra è molto limitato a quel piccolo triangolo e adesso vediamo che cosa è successo all'Italia la Germania ha schiacciato molti altri paesi dell'eurozona attraverso le proprie politiche del lavoro che sono state varate all'inizio degli anni 2000 Marshall ieri ha parlato della commissione Hertz e anche dell'agenda 2010 che è stata praticamente il miracolo economico del cancelliere Schröder e in base alla quale la Germania ha riformato il proprio mercato del lavoro limitando il potere dei sindacati e dei loro rappresentanti e quindi facilitando il licenziamento da parte delle imprese riducendo i sussidi di disoccupazione così che adesso in Germania il sussidio di disoccupazione dura la metà del tempo degli Stati Uniti quindi si è trattato di riforme pesanti e quando sono state introdotte la disoccupazione inizialmente subì un'impennata e quindi questo ha avuto un impatto negativo sull'economia tedesca ma non per molto tempo perché ovviamente questo impatto si è ben presto trasferito ad altri voglio che guardiate questo grafico l'Italia nel 1996 aveva un'eccedenza alla bilancia commerciale di più del 3% del PIL l'Irlanda anche si trovava nella stessa situazione di eccedenza la Spagna aveva un piccolissimo deficit commerciale il Portogallo e la Grecia avevano dei deficit commerciali relativamente contenuti da 3 a 3,5% la Francia aveva un'eccedenza e la Germania era in condizioni di deficit commerciali sempre ecco teniamo ben presente questa immagine imprimiamocela bene in testa passo adesso alle prossime diapositive guardate che cosa è successo alla Germania e guardate anche cos'è successo a tutti gli altri paesi guardate anche i numeri indicati che aumentano guardate qui chi ha vinto avevate più spazio fiscale prima dell'avvento delle politiche tedesche e adesso siete confinati a quel triangolino non avete abbastanza spazio di manovra senza infrangere le regole del patto di crescita e stabilità ed è estremamente difficile a questo punto per voi riuscire a mantenere in attivo il settore privato in un'economia sana praticamente impossibile qui vediamo lo stesso grafico con i dati effettivi ricordate adesso il Portogallo ha un deficit commerciale e anche il Portogallo deve seguire le regole del patto di stabilità pertanto lo spazio di manovra del Portogallo lo spazio di sostenibilità è questo triangolo vedete fra il grigio e il giallo la curva grigia e quella gialla questo piccolo triangolo noterete che praticamente non ci arrivano mai e ancora peggio praticamente tutti i punti del grafico si trovano al di sopra della linea verde in cui appunto il settore privato si trova in deficit l'Italia 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 riesce a entrare nel triangolino anche se non ci riesce spesso comunque per la gran parte del tempo i vostri deficit sono stati abbastanza ampi da compensare i deficit della bilancia commerciale esistenti e siete riusciti a mantenere in attivo il settore privato ma questo è stato dovuto al fatto che le regole non sono state rispettate se aveste rispettato le regole negli ultimi 14 anni avreste avuto successo tre volte l'Irlanda non ha mai avuto successo vedete lo spazio è troppo piccolo e quindi non potrà assolutamente succedere e guardate la Grecia il triangolo della Grecia è lì su in un angolino praticamente non riescono neanche loro a rispettare queste regole così restrittive lo stesso vale per la Spagna la Germania però sta andando benissimo praticamente tutti i punti sono alla destra della retta verde e questo indica un settore privato inattivo anche se la Germania non ha rispettato le regole del patto di stabilità come non le hanno rispettate gli altri comunque ha il più ampio surplus dei conti correnti questo è possibile per la Germania grazie a tutti voi e questo è il segreto del loro successo ed è per questo che sono in grado di lavorare con minimi margini di deficit stando fuori dai guai perché voi li finanziate ecco era qui che volevo arrivare stamattina non so come vado col tempo comunque vi ringrazio bene ottimo ok allora ricordo per chiarezza che se qualcuno non ha capito la traduzione del deficit dei conti correnti dello Stato si riferiva alla si riferiva alla bilancia dei pagamenti cioè quello che noi spendiamo per comprare dall'estero e quello che l'estero spende per comprare per comprare da noi si si certo no no certo si riferiva ai bilanci della spesa italiana verso l'estero e dell'estero verso l'Italia ok grazie